Fabio, chi era quello che hai salutato prima? Ah, un collega, l'avvocato Alberto Saccalide, un principe del foro. Uno sdombone raffinato, ma di grande livello culturale. Astrons, son d'ossai, a maniaco! Se te vieno non carci al culo che per i dati a me la scarpa, te devi da purgà! Poi, disgraziatamente, una terribile malattia l'ha ridotto così.